ciao oggi sono qui sotto rovio vicino a mendrisio tra mendrisio e lugano alla cascata del botto che vedete proprio lì lì dove c'è il mio dito vedete così la vedete meglio una bellissima cascata è un bellissimo giro io vi porto in giro penso di fare una cosa molto buona la faccio per noi perché perché la vita ha bisogno di noi perché si esprime tramite di noi la vita ma si esprime anche tramite quella cascata si esprime tramite quell'animale si esprime tramite quelli alberi che vedete e a volte quell'animale si esprime dandoci la sua energia tramite la sua vita allora ne dobbiamo essere consapevoli e secondo me ognuno di noi quando va a far la spesa deve capire che non sta comperando della carne ma sta ammazzando e comperando un animale e deve esserne consapevole io non sono qua per dirti di non mangiare la carne perché io no scusami per non mangiare gli animali ma sono qua per dirti che anche io li mangio gli animali e anche io li ammazzo e sono dunque responsabile della mia scelta questo è un video un video di consapevolezza si consapevole consapevole di quello che fai ogni volta che lo fai perché se lo fai con consapevolezza ti si libera un mondo e ti cambia la vita domani già sarai diverso e farai qualcosa d'altro e mangerai forse anche diversamente a hug un abbraccio un caro saluto metti un like e ti auguro un bellissimo weekend io sto bene e tu anche tu stai bene seguimi sempre e staremo sempre meglio